Per la legge di dualità, che cosa succede quando molti credono nella stessa verità? Commento Se molti credono nella stessa verità, non significa che una verità sia più vera di un'altra. Significa che, per la legge di dualità, per cui è vera una cosa e il suo contrario, gli individui che hanno una verità in comune hanno un grado di evoluzione simile. Uno degli esempi più diffusi di verità in comune è l'adesione a una ideologia, per la quale milioni di individui credono per un tempo più o meno lungo nella stessa ideologia. È un'illusione, ma anche questa evolve. Sì, è un'illusione, ma anche questa evolve. Grazie a tutti.